Siamo in compagnia di Francesco Nicastro, possiamo dire che con il benevento la USA avrebbe meritato sicuramente la vittoria, anche il mister Zavetti l'ha detto con l'Andrea il pareggio ci è andato bene, però intanto si continua a non perdere e questo è importante. Sì certo, si continua a non perdere, quello è l'importante. A benevento siamo usciti con un po' di rammarico perché magari il risultato non è stato quello che meritavamo, però quello di sabato credo che sia un punto guadagnato perché per come si era messa la partita nel secondo tempo rischiamamo pure di perderla. Parliamo prima con Maurizio Vella, secondo te il calo notevole nel secondo tempo della USA è dovuto più a un fatto psicologico o a un fatto fisico? Diciamo che al secondo tempo non siamo entrati secondo me in campo con la giusta concentrazione e con la giusta determinazione che avevamo avuto magari nel primo tempo. Questo è un aspetto su cui bisogna lavorare per migliorare e chiudere le partite sia nel primo che nel secondo tempo mantenendo sempre la stessa concentrazione. Altro noto dolente di questa partita in casa sono gli 837 paganti. Ovviamente noi non critichiamo chi effettivamente non può venire per condizioni economiche o per altri motivi. Possiamo criticare chi magari è indeciso. Il mister Zavettino ha cercato di mettere subito una pietra su questo discorso dicendo che evidentemente questa Juve Stabia non merita più di 837 paganti. Ecco, il tuo pensiero invece? Il mio pensiero è chiaro che farebbe piacere vedere sempre lo stadio pieno quindi per motivi diversi, chi per economici, chi magari non piace lo spettacolo che offriamo magari si sente di non venire allo stadio. Io mi auguro che con le nostre partite, le nostre giocate, le nostre vittorie riusciremo comunque a riportare la gente allo stadio. Ecco, adesso si va a Messina contro il sorprendente Messina, possiamo dire una squadra che in tanti non avrebbero, diciamo, su cui non avrebbero giocato un euro ecco per vederla seconda in classifica eppure sta lì e ha perso ultimamente però con il Catanzaro il sorprendente Catanzaro. Ecco, che partita sarà? Sarà una partita difficile come tutte le altre. Il Messina ha iniziato bene, è una squadra tosta da affrontare in uno stadio difficile, però noi andremo lì con la consapevolezza dei nostri mezzi per fare la nostra gara e cercare di portare a casa il risultato migliore. Ecco, l'anno scorso tu e Gammone siete stati autentici imbattatori della gara che ricordiamo la USAB vinse per 3-0, fra l'altro parlando con mister Pancaro a distanza di tempo ha detto quella per me è stata la gara perfetta della USAB perché lì la USAB ha fatto tutto quello che io chiedo a una squadra. Adesso davvero, nelle condizioni in cui la USAB, che partita ti aspetti che dovrà fare la USAB? Sì, l'anno scorso è stata una delle migliori partite che abbiamo fatto in trasferta. Mi auguro che anche questa possa essere uguale quest'anno, quindi sarà sicuramente una partita difficile e noi arriveremo là con tanta rabbia per rifarci del risultato di questa partita con l'Andre. Di Napoli in panchina come allenatore, un ex giocatore del Messina, in difesa ci sono Martinelli e Parisi, due giocatori di esperienza. Quale sarà secondo te la mossa che dovrà fare la USAB? Perché in considerazione del fatto che sicuramente si scenderà forse in campo con il 4-4-2 che adesso attualmente è il modulo che può fare la USAB con gli uomini a disposizione? Ma noi con tutto il rispetto non dobbiamo pensare a chi abbiamo di fronte, certo. Giocare e confrontarsi con gente che ha giocato in palcoscenici diversi fa piacere e ti spinge ad andare ancora di più. Quindi noi dobbiamo entrare in campo con la consapevolezza delle nostre forze e cercare di dare il massimo. Un'ultima considerazione sulla questione stadio. Oggi c'era l'incontro fra Maniello e il commissario Vaccaro di Castanammare. I tifosi hanno chiesto di portare la squadra al Menti, hanno fatto anche una raccolta firme. Ma questo fatto di allenarsi qui a Castanammare e poi giocare a Menti vi sta creando qualche problema o non sentite nessun problema? No, io parlando per me già dall'anno scorso ci alleniamo qui, quindi è chiaro che farebbe piacere allenarsi e giocare nello stadio in cui giochi la domenica. Penso che anche i tifosi verrebbero di più a vedere gli allenamenti e quello farrebbe ancora più piacere. Mi auguro che comunque la situazione si possa sistemare, trovare un accordo e portare la Juve e sabbia nella sua casa.